Amici, oggi apriamo insieme nuovissimi slime da Shein. Vediamo insieme come sono, ma prima sigla! YOLANDA SWITZ Hello everyone! Rieccomi tornata con un nuovissimo video, come state? Spero tutto bene. Come avete passato la vostra giornata? Spero bene. Ciao amici, io sono Yolanda Switz ed oggi sono tornata con un nuovissimo video di recensione di slime 100% onesta. Oggi andiamo a recensire slime comprati da Shein. Prima di iniziare questo video, ovviamente ragazzi, lasciate un bel like, un pollice in su, iscrivetevi e attivate la campanella per ricevere le notifiche perché tutti i giorni sul mio canale troverete nuovissimi video. Ovviamente amici, vi rinnovo l'invito ad andare a visitare il mio sito che è www.yolandaswitz.it Allora, qua abbiamo 4 slime, mi pare che una confezione ne dovrebbe contenere addirittura 2. Io li vado ad aprire. Molti di questi slime dovrebbero essere dello shop di Rino Slime. Questa è la confezione dello slime natalizio. Uno è Christmas Tree e un altro, questo qua, Merry Christmas, che dovrebbe essere appunto il pupazzo di neve. Questo che dovrebbe essere appunto l'albero di Natale fatto in clay. Poi vediamo un pochettino. Ah, bellino! Dovrebbe essere questi qua, delle decorazioni per fare un pupazzo di neve. E qua c'è appunto l'addensante. Allora, diciamo che proviamo prima questo. Allora, proviamo prima questo slime che è del pupazzo di neve. All'interno, vediamo com'è. All'interno, ragazzi, è un po' strano. Allora, io non so se ha fatto muffa. Allora, vi voglio far vedere, ragazzi. Credo si riesca a percepire. Ci sono delle macchioline marroni, molto scure, all'interno. Perché, boh, comunque, dovrebbe essere un icy slime. Quindi fatto con la colla trasparente e con la neve. Al tatto è davvero molto bello. All'interno di questo slime si dovrebbero mettere appunto queste decorazioni. C'è un solo occhio, ragazzi! Non ce ne sono due! Penso sia fatto apposta per creare un pupazzo di neve. La cosa bella è che questo slime è bello solido. Quindi si può creare appunto il pupazzo di neve. Così, in testa mettiamo il cappellino. Qua mettiamo le braccia. Qua mettiamo la carotina. Ragazzi, c'è questo pupazzo mio di neve ha un solo occhio. Comunque, questo è il pupazzo di neve che abbiamo creato con lo slime. Devo ammettere che è davvero super carino, anche se ha un solo occhio. Allora, lo slime è di una consistenza, come avete visto, molto morbida. Ma allo stesso tempo molto solida. Appunto, che è perfetta per creare il nostro pupazzo di neve. Davvero molto carino. Vi dirò, io la clay non la vorrei mescolare, ma vado a vedere. Ok, è morbidosa. Ci sta. Molto, molto morbida. La clay è molto morbidosa. Questa cosa che l'abbia messa all'interno di questa confezione mi piace tanto. Anche questa qui dovrebbe essere un icy slime. Nooo! Non è un icy... Ok, questo qua profuma tipo di candy cane, quindi di menta. Non è un icy slime, ma è un fits fatto con la colla trasparente. Lo slime è questo. Come potete vedere all'interno ci sono tutti questi, sembrano tipo ghiaccetti, ma in realtà no. È una neve molto particolare, come potete constatare, perché è fatta tipo con delle scagliette. Io la uso spessissimo. Molto particolare per fare il fits slime. Molto bello. È molto solido, ma allo stesso tempo molto, molto morbido. Non voglio mescolarlo la clay all'interno dello slime, perché, non lo so, ho paura che si indurisca. Abbiamo una decorazione. E qua c'è uno slime trasparente. Davvero molto, molto carino. Vi devo dire, ragazzi, è davvero molto, molto solido. Davvero molto bello. È un verde trasparente. Secondo me serviva da mettere sopra la clay. Lo slime è bellissimo, ragazzi. Come d'altronde tutti gli slime di questa ragazza, perché io la seguo su Instagram. Ed è una ragazza. Comunque davvero molto bello. Molto elastico. E molto scoppiettante. Anche questo qua, trasparente. Procediamo ancora con il prossimo slime. Questo qui dovrebbe essere un bubble tea, teoricamente. Questa è la base. Poi c'è questo slime qui che dovrebbe andare sotto i bubble tea. E qui abbiamo le decorazioni. Un bubble tea con le perline. Procediamo a provare lo slime. Che dovrebbe avere una base normale. Fluffy. Esattamente. Non è neanche molto appiccicoso. Allora, il profumo è un profumo tra la vaniglia ed il latte. Con questo colore... Non lo so, un po' stranino. Tipo che va un po' nel marroncino. Perché questo in realtà è un taro. È un taro bubble tea milk. Il profumo è davvero molto molto buono. Mi piace tanto. Vedete la base, ragazzi? Molto bella. Base fantastica. Sentite, una base fluffy davvero molto bella. Mi piace molto anche l'immagine che c'è sulla confezione. Questo invece è lo slime trasparente. Che dovrebbe essere appunto il tarono. Fatto con le perline. È marrone. Anche questo. Ha la stessa base, penso, di quello verde. Davvero bello. Ora lo componiamo. Lo charm fatto con il bubble tea. Allora, sotto mettiamo le perline. Ok? Mettiamo un po' di base marrone. Sotto. E poi il resto, ragazzi, lo mettiamo tutto intorno al bordo della confezione. E dentro poi mettiamo la nostra base. Bellissima! Wow, ragazzi. Molto molto bella. Mi piace tanto. E poi sopra ci va questo. Ragazzi, è davvero, davvero bello. Vi posso dire, non lo voglio mescolare perché mi piace così. Guardate che bello che è. Con le perline sotto sembra proprio davvero un bubble tea quello che vado a bere a ceratano. Mi piace tantissimo. Voglio provare con voi questo slime. Allora, questo slime c'è scritto semplicemente strawberry milk slime. Ok. È gigante. Vediamo. Allora, all'interno è uscita questa clay gialla. Però non ho capito personalmente a cosa possa servire. Cioè, nel senso, forse serviva per fare qualche formina. Solo che adesso non mi ricordo minimamente. Andiamo ad aprire lo slime che ha una confezione molto molto bella. Molto ermetica. Tanto ermetica che non riesco ad aprirla. Vediamo. Eeeh, ragazzi, wow. Vedete qua? È molto molto solida la base. Sembra avere appunto una base trasparente con un po' di colla vinilica all'interno. Davvero bella. Davvero molto molto bella. Forse è un po' troppo troppo solida, davvero. Guardate qua. È elastica ma allo stesso tempo soda. È densa. Non lo so. È molto molto strana. È da provare, ovviamente. Vedete? È molto gommosa come tipologia di base. Forse sarà proprio che è stato fatto con la colla trasparente. Sembra molto fruttoso come profumo di slime. Mi piace tanto. Abbiamo qui anche uno slime trasparente rosa o rosso. Dipende dai punti di vista. Vediamo un pochettino com'è. Allora, anche questo ha la stessa base, diciamo, dell'altro slime. Ora, possiamo comporlo, diciamo, un po' come ci va. Ah, in questo caso, io, sinceramente, non so a cosa serve la clay gialla. Però io lo vado a comporre, ragazzi miei, in questo modo. Io metto questo slime che sembra quasi un patty slime, vi devo dire la verità. Sopra questo qua, diciamo, bianco. Vado a mettere questa base, appunto, sopra. E abbiamo tutte queste decorazioni con le fragoline. Le andiamo, appunto, a piazzare sopra con le fragoline che sono qui. Molto, molto carine. Ed ecco qua, quindi, il nostro slime che ha una base sensazionale e per me, comunque, è un grande voto 10. Procediamo con l'ultimo slime che è sempre uno slime di Rino Slime. E dovrebbe essere un Magic Cookies. Questo qua mi piace tantissimo, ragazzi. È un Magic Cookie, davvero bello. E profuma un sacco di biscotti al cioccolato. Anche questo, suppongo che sia una base molto solida, fatta con la neve. Non so perché, ma all'estero hanno una fissa per questa base di slime. Non capisco perché, ragazzi. Però vi devo dire che è molto, molto bella. Molto bella perché, come vi dicevo prima, è solida, ma allo stesso tempo super elastica. Dentro c'è la neve, perché c'è la neve ed ha un profumo spaziale di biscotti al cioccolato, ragazzi. Mi piace tanto, amici. Mi piace veramente, veramente tanto. E qui ci sono tutte queste scagliette di cioccolato da mettere dentro lo slime o anche sopra. In modo da creare queste finte gocce di cioccolato. Ok, amici. Allora, devo dire, questi slime, vi posso dire, non mi deludono mai. Sono sempre molto contenta. Se dovessi dirvi qual è stato il mio preferito, probabilmente questo. Bubble Tea Boba Tea. E forse questo qua, per creare il pupazzo di neve, è davvero molto creativo, molto molto carino. Grazie a tutti per aver visto questo video. Vi voglio bene, vi mando un bacione ed un abbraccio forte. E noi, come sempre, ci vediamo domani alle ore 14.30 con un nuovo video. Ciao! Ciao!